di contenere il contagio ci sta costringendo a misurarci con nuove abitudini di vita, con un impatto negativo sull'intero sistema produttivo che coinvolge imprese, famiglie e lavoratori. Sono giorni terribili per la nostra comunità, per la comunità nazionale. Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi. È un dolore per la nostra comunità che si rinnova quotidianamente, perdiamo soprattutto i più fragili, i più vulnerabili. Non avremmo mai pensato nel nostro Paese di guardare immagini in cui sfilano figlie di autocarri dell'esercito cariche di Bari e di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, ma il nostro partecipe pensiero, la nostra commossa vicinanza. Permettetemi... Grazie. 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 Grazie a tutti. Ho ricordato alla Camera una lettera di Michela, un'infermiera che lavora al reparto Covid dell'ospedale di Senigallia. L'ho fatto per simbolicamente ringraziare lei pubblicamente, per ringraziare tutti, soprattutto, ripeto, il personale medico, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari. Ci hanno chiesto, Michela, per tutti di non dimenticarli dopo che passerà questa emergenza. Ho preso l'impegno del Governo a non dimenticarli e sono convinto che tutti voi che siete in quest'Aula ci aiuterete per operare concretamente, perché il ricordo non si perda. Stiamo combattendo un nemico invisibile, insidioso. Entra nelle nostre case, divide le nostre famiglie. Ci è imposto di ridefinire le nostre relazioni interpersonali. Ci fa sospettare anche di mani amiche. Ci ha costretto a imporre a tutta la comunità una limitazione significativa degli spostamenti, pur di contenere il contagio e di mitigare il rischio di una diffusione incontrollata. È un'emergenza così coinvolgente che arriva a sfidare il Paese in tutte le sue componenti, nei suoi gangli vitali. È una sfida ad un tempo sanitaria, economica, sociale. Ci coinvolge tutti, nessuno escluso. È un'emergenza che riguarda il settore pubblico, ma anche quello privato. Coinvolge noi, tutti i rappresentanti delle istituzioni, ma anche i semplici cittadini. Il Governo, chi vi parla in particolare, è pienamente consapevole che dalle sue scelte e da ogni decisione assunta discendono conseguenze. Oggi più che mai dimane portata per la vita fisica innanzitutto dei singoli cittadini. Scelte che condizioneranno anche il futuro della nostra comunità. Siamo all'altezza del compito che il destino ci ha riservato. La storia domani ci giudicherà, verrà il tempo dei bilanci, delle valutazioni su quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto. Tutti avranno la possibilità di sindacare il nostro operato e trarne le conseguenze. D'altra parte, ricordavo anche ieri, molti in questi giorni hanno ricordato ed evocano anche pubblicamente le pagine scritte da Manzoni nei promessi sposi. Lì a un certo punto viene ricordato un antico proverbio che è ancora oggi fortemente in auge, per cui del senno del poi sono piene le fosse. Ci sarà un tempo per tutto, ma oggi è il tempo dell'azione, oggi è il tempo della responsabilità dalla quale nessuno, nessuno può fuggire. La responsabilità massima compete senz'altro al governo. Ne siamo consapevoli ed è per questo che sono qui a riferire delle nostre azioni di fronte a voi che rappresentate il popolo. Ma la responsabilità, proprio per le caratteristiche del nostro nemico, e non mi stanco mai di dirlo, è di tutti i cittadini, quindi anche voi membri del Parlamento. Perché mai come in questa condizione di assoluta emergenza ciascuno di noi, con ogni singola azione, è chiamato a perseguire il bene comune, al quale quindi siamo tutti vocati a contribuire attraverso il rispetto delle regole, con pazienza, fiducia e responsabilità. Il Governo ha agito con la massima determinazione e con assoluta speditezza, approntando, ben prima che in qualsiasi altra nazione, le misure di massima precauzione. A partire dal 22 gennaio, quindi ben prima che il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse il coronavirus emergenza internazionale di salute pubblica, abbiamo adottato vari provvedimenti cautelativi. Ne ricordo alcuni. Il 22 gennaio è stata creata presso il Ministero della Salute, una task force apposita. Il 25 gennaio un'ordinanza del Ministro della Salute ha precisato quali erano le misure profilattiche da seguire. Il 27 gennaio è stato disposto il divieto di atterraggio dei voli provenienti dalla Cina, noi eravamo esposti a voli diretti di compagnie cinesi, ha prodotto questo un brusco calo del flusso di passeggeri direttamente provenienti dai focolai epidemici più intensi. Il 31 gennaio, all'indomani del primo episodio, verificatosi a Roma, ricorderete, turisti cinesi, abbiamo programmato lo stato di emergenza nazionale per la durata cautelativa di sei mesi, affidando alla protezione civile il compito di coordinare le attività di sostegno all'azione delle regioni per fronteggiare l'emergenza. Ricordo che l'organizzazione della sanità è di completa, pressoché completa, competenza delle regioni, mentre allo Stato spetta dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il Governo dunque ha anticipato la reazione, ponendo in essere tutte le azioni di propria competenza necessarie e utili a presidiare i beni primari della vita e della salute dei cittadini. Il significativo tasso di contagio attribuito al Covid-19, con la previsione di una diffusione incontrollata del virus, ha posto subito all'attenzione delle autorità sanitari la realistica possibilità di un sovraccarico del sistema sanitario rispetto alla necessità di erogare cure che, con particolare riguardo alla popolazione più debole e più anziana, richiedono interventi di terapia intensiva e subintensiva, con un tasso di ospedalizzazione difficilmente sostenibile dall'intero sistema sanitario nazionale. La limitazione del contagio è stata quindi da subito la scelta necessaria a consentire al sistema di adeguarsi con un piano emergenziale specifico. In questa prospettiva, i primi interventi di impatto e di contenimento hanno avuto l'obiettivo di isolare i casi positivi, tracciare i contatti stretti e provare a delimitare i cosiddetti focolai. Ricordo che il primo caso di paziente italiano è stato scoperto a Codogno era il 21 febbraio. Nella medesima giornata, d'un tratto i contagiati sono saliti a 15. Pressoché contemporaneamente, nell'estensione, un altro focolaio è stato scoperto a Vaux-Euganeo. Sono stato raggiunto da queste notizie mentre ero a Bruxelles. Proprio in quell'occasione il Consiglio europeo tenne una riunione fiume che si protrasse anche per tutta la notte. Appena rientrato a Roma, la sera stessa del 21 febbraio, mi sono subito recato in protezione civile per avere un puntuale aggiornamento. Il giorno dopo, siamo al 22 febbraio, ho convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri presso la protezione civile, nel corso della quale abbiamo adottato immediatamente il decreto legge numero 6, che ha disposto misure immediate di contenimento del contagio, definendo al contempo un percorso normativo, quello che conosciamo affidato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha il compito di definire le misure via via ritenute più idonee a fronteggiare emergenza. Immediatamente abbiamo adottato un DPCM il 23 febbraio, con cui abbiamo isolato le prime due cosiddette zone rosse riguardanti i dieci comuni dell'Odigiano e il comune di Vuo e Uganio. Sono state ore davvero molto stressanti e impegnative, la prima volta in Italia che si disponeva di isolare, ovviamente al di fuori dei periodi bellici, interi comuni, intere comunità. Con DPCM del 25 febbraio, solo due giorni dopo, presso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, si è intervenuto in tutti i comuni delle regioni dell'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, sullo svolgimento delle manifestazioni sportive, sull'organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, sulla disciplina delle misure di prevenzione sanitaria presso gli istituti penitenziari, sulla regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, sull'organizzazione delle attività culturali e per il turismo. Una volta verificato che la circolazione del virus superava ambiti geografici facilmente e chiaramente isolabili, ci siamo subito resi conto, ma seguendo sempre le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, che le misure di contenimento geografico perdevano di valore e significato, mentre assumevano ancora più rilevanza quelle di distanziamento sociale, via via incrementate con i provvedimenti che ci sono succeduti, dapprima nelle regioni interessate e poi su tutto il territorio nazionale. Sì, perché chiaramente la nostra battaglia non conosce confini, si sviluppa da nord a sud, la nostra macchina organizzativa e operativa ovviamente è in questo momento attentamente rivolta a quelle che sono le esigenze delle regioni del nord, ma dobbiamo concentrare i nostri sforzi anche per il centro, pensiamo anche alle marche e anche per potenziare la risposta al sud, in funzione di mitigazione del rischio e anche di prevenzione di situazioni altrettanto critiche. La scelta degli interventi effettuati, vorrei ricordare, si è sempre basata su accurate valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico e ha mirato a contemperare l'esigenza di incidere in maniera bilanciata tra benefici e sacrifici nella vita dei cittadini. Abbiamo sperimentato, primi in Europa, un percorso normativo volto a contemperare da una parte l'esigenza di tutelare al massimo grado il bene primario della salute dei cittadini e dall'altro lato la necessità di assicurare adeguati presidi democratici. È un percorso normativo che noi abbiamo sperimentato per primi, ma che molti Paesi adesso stanno riprendendo e stanno considerando in qualche modo esemplare. Per la prima volta dalla fine del secondo conflitto mondiale siamo stati costretti a limitare alcune delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione. Pensate, in particolare la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di riunione nelle sue varie forme, perfino la libertà di coltivare pratiche religiose. I principi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione delle misure contenitive del contagio sono stati quelli della massima precauzione, ma contestualmente anche dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'intervento rispetto all'obiettivo perseguito. E questa è la ragione della gradualità delle misure che sono diventate restrittive via via che la diffusività, la gravità dell'epidemia si sono manifestate con maggiore severità, sempre sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico Scientifico. Poiché il nostro ordinamento, e qui noi ci differenziamo da altri ordinamenti costituzionali, non conosce un'esplicita disciplina per lo stato di emergenza, abbiamo dovuto costruire un metodo di azione, una strategia di intervento mai sperimentato prima, basandoci ovviamente sulla legislazione vigente e sull'attuale articolata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni comuni. Abbiamo ritenuto necessario ricorrere allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver radicato il suo fondamento giuridico iniziale nel decreto legge numero 6, che ho già menzionato. Abbiamo ravvisato in questo strumento la via più idonea per reagire alle conseguenze, per la sua maggiore agilità, ad adattarsi alla rapida, spesso imprevedibile evoluzione del contagio e alle sue conseguenze. In secondo luogo ci è apparso questo strumento anche il più idoneo a garantire l'applicazione delle misure in maniera uniforme per quanto necessario. Ogni decreto del Presidente del Consiglio è sempre stato adottato, con il coinvolgimento di tutti i ministri che hanno potuto offrire ciascuno in relazione alle proprie competenze, alle personali specifiche sensibilità politiche, un importante contributo. Abbiamo inoltre assicurato, come d'altra parte espressamente previsto nel decreto legge numero 6, il massimo coinvolgimento delle regioni sia singolarmente sia attraverso la conferenza Stato-Regioni. Addirittura per le misure che incidevano sulla libertà di impresa, sull'iniziativa economica, sui diritti dei lavoratori, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere le parti sociali, sindacati, associazioni di categoria. Abbiamo anche pagato un prezzo per questi ampi coinvolgimenti, perché è notizia di cronache che voi ben sapete, ci sono state anche anticipazioni che certo non hanno giovato per orientare in modo chiaro la popolazione. Alla fine del mese di febbraio il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver acquisito dall'Istituto Superiore di Sanità i dati epidemiologici aggiornati, analizzava all'iter epidemiologico del Covid-19 e il suo trend di diffusione dopo l'adozione delle prime forme di contenimento differenziate per zone. Il dato rappresentava una situazione di lieve flessione nell'incremento dei casi collocati nelle cosiddette zone rosse, a cui corrispondeva contemporaneamente un aumento dell'incidenza in altre aree, con conseguenti allarme per le strutture sanitarie da cui l'organizzazione territoriale cominciava ad andare in sofferenza, in ragione dell'impatto significativo del ricorso alle terapie intensive e subintensive. In tale contesto, con il diffondersi del virus nel tentativo di arginare il contagio esponenziale, si moltiplicavano gli interventi emergenziali adottati tanto dai presidenti delle regioni quanto dai sindaci di singoli comuni. Con i successivi di PCM abbiamo potuto graduare le misure, sovente e specificamente circoscritte sul piano territoriale, in modo da renderle proporzionate e adeguate, questi sono stati sempre i nostri principi, adeguatezza, proporzionalità, sempre sulla base delle raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico, rispetto all'obiettivo del contenimento del contagio e della mitigazione del rischio epidemiologico. In particolare con il DPCM dell'11 marzo abbiamo disposto alla sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ritenute non essenziali, dei servizi di ristorazione, dei servizi della persona, preservando ovviamente la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Un passaggio poi particolarmente qualificante, che rivendico anche come un segnale da parte del Governo di massima attenzione al mondo del lavoro, è stata la firma il 14 maggio, all'esito di 18 lunghe ore di confronto con i sindacati e associazioni datoriali, di un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto del virus nei luoghi di lavoro, sul presupposto che la prosecuzione dell'attività lavorativa in questo contesto possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di protezione. Infine con l'ultimo DPCM, e siamo quasi alla cronaca di questi giorni, del 22 marzo sono state ulteriormente integrate le misure di contenimento del contagio, prevedendo tra l'altro il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici ma anche privati da un comune all'altro, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza per motivi di salute, la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi pubblici essenziali. Quest'ultima misura, quella riguardante la sospensione delle attività produttive, è stata adottata all'esito di un confronto con le associazioni di categorie e i sindacati. Ebbene, lo sappiamo, si è rivelata di complessa elaborazione, dal momento che la selezione delle filiere essenziali, in ragione della forte integrazione e interconnessione fra le produzioni, è risultata davvero molto delicata. Vi sfido a ricordare, se mai stato adottato un provvedimento del genere, vi sfido a immaginare come poter distinguere all'interno di un complesso sistema produttivo le attività produttive essenziali da quelle non essenziali in questo momento. Nell'evidenziare che tutte le misure adottate si giustificano, come riconosciuto anche dai giuristi, penso in particolare ai costituzionalisti, per la straordinarietà e l'eccezionalità dell'evento, suscettibile di porre in grave e immediato pericolo la salute dei cittadini, sono consapevole della necessità di un doveroso coinvolgimento del Parlamento che esprime al massimo grado il carattere democratico, la democraticità del nostro ordinamento. Per tale ragione, con il decreto legge pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, oltre ad aver trasferito in fonte di rango primario tipizzandole le misure di contenimento da adottare per contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del virus, abbiamo anche introdotto una più puntuale regolamentazione litter procedimentale nell'adozione di PCM, prevedendo tra l'altro l'immediata trasmissione dei provvedimenti emanati ai Presidenti delle Camere e il vincolo per il sottoscritto o per un ministro da lui delegato di riferire ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate. A questo proposito vorrei anche dire che nei giorni scorsi, ieri l'altro, ho incontrato i leader anche delle opposizioni. Non era la prima volta e sapete anche che nei giorni ancora prima ho incontrato anche i rappresentanti delle opposizioni. Anche ieri alla Camera ho ascoltato delle dichiarazioni di grande apertura al confronto per quanto riguarda i provvedimenti che stiamo adottando. Bene, c'è piena disponibilità da parte del Governo in questa direzione. Come sapete il decreto cura Italia, su cui tra poco tornerò a riflettere, a ragionare, è stato anche elaborato, dando mandato al Ministro Gualtieri di ascoltare e di interloquire preventivamente con i rappresentanti e le opposizioni. C'è stato anche un tavolo tecnico, probabilmente non sono state raccolte tutte le indicazioni, ma sicuramente in quel decreto ci sono delle indicazioni raccolte dalle forze di opposizione, segnalate dalle forze di opposizione. C'è un nuovo decreto che ho già annunciato, adesso ci ritornerò. Possiamo riprodurre questa metodologia di lavoro, ma dare mandato anche al Ministro di Incade e ai rapporti col Parlamento, di elaborare anche un percorso di più intenso confronto e di condividere con voi un percorso per consentire di acquisire le vostre più puntuali valutazioni, mi riferisco alle forze di opposizione. Oltre alle misure contenitive, oltre ad evitare la diffusione del contagio, il Governo si è subito attivato per sostenere il sistema sanitario, in sofferenza a seguito dell'incremento esponenziale del numero dei ricoverati. Con il Ministro Speranza, e cito in particolare anche i Ministri Boccia, Di Maio e Guerini, dovrei citarli tutti, cito solo questi perché con loro stiamo avendo una maggior consuetudine di confronto pressoché quotidiano presso la protezione civile. Stiamo lavorando, dicevo, incessantemente per superare queste difficoltà, valendoci ovviamente dell'apporto del Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e del Commissario, designato anche ad hoc per gli approvvigionamenti, Domenico Arcuri. L'evoluzione dell'epidemia ha indotto il Governo a individuare ulteriori misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con riguardo alle risorse umane e strumentali alla capacità ricettiva delle strutture sanitarie, tramite il Decreto Legge numero 14 del 2020. Quelle norme sono molto importanti per potenziare la reazione e la risposta del Sistema Sanitario Nazionale, perché ricordo le misure straordinarie in esso contenute per l'assunzione degli specializzanti in medicina, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario su tutto il territorio nazionale, l'assunzione a tempo determinato del personale delle professioni sanitarie, dei medici, degli specializzanti, nonché l'aumento del monteone della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. È stato anche avviato, in parallelo, l'acquisto di strumentazione specialistica, consistente soprattutto in macchine e altri dispositivi per ventilazione invasiva e non nell'acquisizione di personale sanitario aggiuntivo da utilizzare nelle aree più interessate, mentre nel resto del Paese proseguono attività di preparazione per riuscire da una parte a rallentare l'onda di contagio e ridurre i suoi picchi, al fine di assorbire l'impatto sui servizi sanitari, e dall'altra per gestire i casi in modo efficace e in strutture adeguate. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medicali, bisogna sottolineare che la produzione è dislocata prevalentemente fuori del territorio nazionale. Pertanto, soprattutto nella prima fase, si è riscontrata una notevole difficoltà nel loro reperimento. La diffusione dell'epidemia a livello globale, tra l'altro, ha comportato una lievitazione dei prezzi, con una distorsione del mercato che non consente più di avere ormai dei prezzi medi di riferimento. A ciò si deve aggiungere il blocco delle esportazioni che hanno adottato molti Paesi produttori e di transito. Inoltre, a rispetto di ogni normale procedura, si è dovuta affrontare la criticità legata alla necessità di dover pagare e in anticipo la merce. Anche a fronte del grande rischio di doversi avvalere i medi intermediari poco trasparenti e, come è capitato, di intercettare, propensi alle truffe internazionali. Le terapie intensive in Italia sono passate in pochi giorni. Vi devo aggiungere il dato che ho dato ieri alla Camera e questo testimonia il notevole e incessante lavoro che stanno facendo la protezione civile. Siamo passati a 8.883 unità, quindi più 3.540 in pochi giorni. Per quanto riguarda i reparti di malattie infettive e pneumologia, siamo arrivati a 30.800 unità, con un incremento in pochi giorni di 23.560. Abbiamo 59 pazienti in terapia intensiva e li abbiamo trasferiti alla Lombardia e in altre regioni italiane in ragione di una convenzione che esisteva già presso la protezione civile, si chiama CROSS, l'abbiamo resa più stringente, più vincolante. Abbiamo riconvertito 78 ospedali in covid hospital. Abbiamo e stiamo lavorando tanto per i dispositivi di protezione individuale. Anche qui il mercato è quello che è, ma stiamo riconvertendo tutte le nostre filiere interne per incrementare la produzione. A questo riguardo mi permetto di fare un'osservazione. Ho letto di qualche uscita polemica. È impensabile che la nostra collocazione geopolitica possa essere condizionata da queste forniture. Vi prego non insistiamo più con queste polemiche in questa situazione. Con una procedura di selezione delle 8.000 domande pervenute, fatta in 72 ore, saranno inviati nei prossimi giorni centinaia di nuovi medici negli ospedali in difficoltà. Contestualmente, con una nuova ordinanza nelle prossime ore, trasferiremo su base volontaria 500 infermieri nelle zone con il più alto numero di malati di covid-19. Questi nuovi medici, questi nuovi infermieri potranno offrire il loro contributo nelle aree più colpite, con particolare riguardo ai comuni di Bergamo, Brescia, Cremona, Piacenza, ne cito alcuni ovviamente, come pure all'ospedale da campo dell'Associazione Nazionale Alpini, che a breve sarà operativo a Bergamo. Il governo è pienamente consapevole che la pandemia da covid-19 non pone soltanto una complessa sfida sul piano sanitario, ma richiede anche una significativa risposta economica da parte delle istituzioni nazionali e internazionali. Per questa ragione, sin da quando è emerso il primo focolaio di coronavirus, il governo ha adottato provvedimenti economici volti a tutelare i lavoratori, le imprese coinvolte dall'emergenza. Con il decreto legge numero 6 abbiamo stanziato 20 milioni di euro per il 2020 a valere sul fondo per le emergenze nazionali in favore del Dipartimento per la protezione civile. A questo provvedimento è seguito un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio, che ha disposto alla sospensione dei versamenti, degli adempimenti tributari, nonché del versamento delle ritenute da conto a carico dei residenti nelle prime due aree interessate allo sviluppo di un focolaio. Successivamente, con il decreto legge 9, il governo ha adottato ulteriori misure di proroga degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese delle zone maggiormente interessate all'epidemia, nonché misure in materia di sviluppo economico, istruzione e salute, volte a sostenere il tessuto socio-economico del Paese. La consapevolezza delle pesanti ripercussioni socio-economiche derivanti al Covid-19 ha determinato l'esigenza di un piano di emergenza economica più incisivo, più complessivo. Ricorderete che già lo scorso 5 marzo il governo ha presentato una relazione qui al Parlamento, essenzia della legge 243 del 2012, contenente la richiesta di autorizzare uno scostamento temporaneo del saldo strutturale di bilancio dall'obiettivo programmatico di medio termine precedentemente stabilito. Di lì a poco ricorderete anche che il governo ha presentato una relazione integrativa, portando il complessivo incremento degli stanziamenti richiesti a 25 miliardi per il 2020, in termini di saldo netto da finanziare, ovvero ad un incremento di 20 miliardi e l'indebitamento netto programmato per il 2020. La Commissione europea ha confermato in una lettera di risposta alla lettera del governo dello scorso 5 marzo che le misure di spesa pubblica adottate una tantuma in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse per definizione dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione rispetto delle regole di bilancio vigenti. In forza di questo maggior ricorso all'indebitamento autorizzato al Parlamento, il governo ha emanato il decreto legge numero 18, l'abbiamo sintetizzato come Cura Italia, individuando quattro ambiti di intervento per un'azione urgente di sostegno all'economia. Ricordo i quattro ambiti, potenziamento del sistema sanitario, protezione del lavoro e dei redditi, sostegno alla liquidità delle imprese e delle famiglie, sospensione delle scadenze tributarie e dei contributi previdenziali e assistenziali. Per potenziare le risorse a disposizione del nostro sistema sanitario che sta dimostrando in questi giorni molte criticità e comunque anche a dispetto di queste criticità un invidiabile efficienza e reattività di intervento, come anche riconosciuto dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, il decreto stanzia nuove risorse per 3 miliardi virgola 2. Queste risorse saranno utilizzate per gli interventi di reclutamento e di gestione personale medico sanitario, consentendo fino a 20.000 assunzioni di personale, in parte già deliberate. Inoltre il decreto dispone allo stanziamento di risorse per gli straordinari del personale sanitario, che viene incrementato di 250 milioni di euro per il 2020, l'incremento di 320 unità del personale medico infermieristico militare, nonché la possibilità per l'INAI di assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica viene aumentato anche lo stanziamento a favore dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ambito della protezione del lavoro e dei redditi il decreto stanzia oltre 11 miliardi di euro in favore degli ammortizzatori sociali, della preservazione dei posti di lavoro e di misure specifiche per determinate categorie di lavoratori. La casa integrazione guadagna in deroga, a cui si è già ricorso nei precedenti interventi normativi, viene estesa nel decreto all'intero territorio nazionale, per i dipendenti di tutti i settori produttivi, per una durata massima di nove settimane. Abbiamo prestato attenzione anche alle categorie dei lavoratori autonomi e atipici. Il decreto interviene anche in materia di licenziamenti, prevedendone la sospensione. Misure specifiche sono rivolte anche a categorie particolari di lavoratori che svolgono attività essenziali e non sono coperti dalla sospensione delle attività. I contraccolpi economici dell'emergenza sanitaria naturalmente riguardano da vicino il mondo delle imprese. È imperativo perciò garantire il massimo grado possibile di liquidità alle imprese e il Governo ha questo scopo. Ha già predisposto misure significative che permettono di attivare complessivamente 350 miliardi di euro di finanziamenti a beneficio del mondo produttivo. Queste misure si articolano in quattro direzioni principali. Abbiamo disposto una moratoria sui prestiti fino al 30 settembre 2020 a beneficio di tutto il sistema delle piccole e medie imprese. Abbiamo poi potenziato con 1,5 miliardi di euro il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e qui possiamo far di più e dobbiamo far di più affinché possa intervenire in maniera più capillare ed erogare garanzie per oltre 100 miliardi complessivi. In favore dei lavoratori autonomi che abbiano subito una perdita di oltre un terzo del loro fatturato medio viene steso l'accesso al cosiddetto fondo Gasparrini che per 18 mesi garantisce la sospensione delle rate e il pagamento da parte dello Stato di una parte degli interessi sui mutui per l'acquisto della prima casa. A favore delle aziende di maggiori dimensioni infine abbiamo previsto una garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti diretta alle medie e grandi imprese colpite dall'emergenza. Sono previste anche forme di incentivo alle imprese bancarie e industriali, finalizzate queste forme alla cessione di crediti incagliati o deteriorati attraverso la conversione delle loro attività fiscali differite in crediti d'imposta. Il decreto poi dedica un capitolo importante alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, estendendola portata dagli interventi disposti dalle misure ai provvedimenti precedenti. Al fine di sostenere il sistema Paese in questa delicata fase abbiamo poi costituito un fondo per l'internazionalizzazione del sistema economico e il sostegno delle esportazioni italiane. Infine, per supportare il lavoro nell'ambito dell'emergenza, il decreto dispone misure per la funzionalità delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Non da ultimo abbiamo previsto alcuni interventi in favore del sistema scolastico e universitario, un capitale prezioso su cui dobbiamo investire ancora con maggior convinzione in nome del futuro del Paese, aiutandoli innanzitutto a superare questa fase di contenimento dell'epidemia. L'impegno del Governo nel sostegno all'economia italiana naturalmente trova nel decreto Sicurità Italia soltanto un primo passaggio, un primo passo di carattere emergenziale. Per questa ragione il Governo è al lavoro per un nuovo intervento in grado di potenziare, rafforzare le misure economiche già adottate sul fronte della liquidità, della protezione sociale, del sostegno al reddito, a favore delle imprese, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare riguardo, ma non solo, a quelle autonomi. Con il nuovo decreto miriamo a incrementare il sostegno alla liquidità e al credito che, l'ho già ricordato, con il decreto Italia è in grado già di mobilitare la cifra di 350 miliardi di euro. Con il nuovo intervento normativo confidiamo di pervenire a uno strumento che abbia stanziamenti aggiuntivi non inferiore ai 25 miliardi già stanziati. Consentiteci di lavorare ancora, vorremmo potenziare ancora di più questo intervento. In definitiva confidiamo di poter offrire alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori stanziamenti aggiuntivi per una somma totale non inferiore, ripeto, non inferiore ai 50 miliardi di euro. Non solo. Con i prossimi interventi dovremo rendere ancora più incisivi gli sforzi di semplificazione amministrativa e burocratica. È un passaggio questo molto importante. In modo da realizzare una terapia d'urto che accelere finalmente e risolutamente il nostro Paese. Adesso ne ha più bisogno che mai gli investimenti pubblici e privati, in modo da mettere il Paese nella condizione di ripartire con forza, di rimbalzare non appena si riuscirà a intravedere l'uscita dalla fase più acuta dell'emergenza. Sarà cruciale quindi superare le rigidità strutturali che hanno impedito di dispiegare sin qui in questi anni tutto il potenziale di crescita dell'Italia. Ad esempio, penso da alcuni settori, dell'edilizia, delle opere pubbliche. Al contempo è fondamentale garantire che il sistema Paese sia sempre più preparato a sostenere situazioni di emergenza, qualunque ne sia la causa scatenante. Il nostro sistema sanitario nazionale e il sistema della ricerca in campo scientifico, clinico e farmacologico sono due risorse di valore inestimabile. Le dobbiamo rafforzare, le dobbiamo proteggere. Allo stesso tempo dobbiamo salvaguardare la capacità finanziaria dei nostri enti locali. Sono davvero molto in difficoltà. A partire dai comuni, che è il volto dello Stato più prossimo ai nostri cittadini, affinché possano erogare servizi pubblici di qualità, assicurare reti di protezione sociale solide e resilienti. Questo lavoro che stiamo portando avanti si è già giovato, penso a primo decreto Italia, lo dicevo prima, dei suggerimenti che le forze politiche non solo di maggioranza ma anche di opposizione hanno fatto pervenire. Quindi il Governo è favorevole, lo confermo a proseguire in questo confronto tra le varie forze politiche rappresentate in Parlamento, in modo da concordare un percorso di condivisione delle misure riparatorie e di rilancio dell'economia quanto più ampio possibile. Importante sarà anche il coinvolgimento delle associazioni delle categorie produttive, delle parti sociali, perché l'opera di ricostruzione che stiamo elaborando deve poter coinvolgere più ampie fasce rappresentative dell'intero tessuto economico-sociale. Permettetemi di rivolgere loro un ringraziamento sia alle associazioni di categorie dei datori di lavoro sia alle associazioni di categoria sindacali, perché stanno dimostrando un grande senso di responsabilità in questa fase emergenziale. Dobbiamo approfittare per volgere questa emergenza, questo shock di origine esogeno in opportunità, opportunità di rilancio dell'intero sistema sociale ed economico lungo un sentiero di crescita equa e sostenibile. Queste settimane di lotta e di battaglia contro la diffusione del coronavirus ci hanno anche mostrato l'importanza di preservare alcune filiere produttive di cruciale importanza per la salute e la sicurezza nazionali, come ad esempio quelle legate ai ventilatori sanitari e ai dispositivi di protezione individuale. Un primo passo importante nella direzione della ricostituzione di filiere nazionali è stato compiuto anche con i nuovi incentivi previsti dal decreto Cura Italia per la produzione e la fornitura di dispositivi medici di protezione individuale. Al momento sono disponibili, lo ricordo, 50 milioni di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare e riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici, tutte di sicurezza. Si tratta di risorse che, rientrando nel regime degli utili Stato, sono state autorizzate in meno di 48 ore dalla Commissione europea dopo l'immediata notifica della misura in sede comunitaria da parte del Ministro dello Sgruppo Economico. L'emergenza ci mostra anche l'importanza di tutelare le nostre industrie di interesse strategico, alla luce di un'ampia serie di rischi epidemiologici, ambientali, sismici, informatici e geopolitici. I più preziosi asset del Paese vanno protetti con ogni mezzo e saremo in grado di lavorare in questa direzione a partire dal prossimo provvedimento normativo in aprile. Per il rilancio economico dell'Italia poi restano di assoluta centralità gli investimenti pubblici e privati nella sostenibilità ambientale e l'impulso sempre maggiore alla trasformazione digitale del Paese. L'esperienza delle ultime tre settimane ci ha dimostrato che è necessaria che è possibile una vera trasformazione, una vera e propria trasformazione in chiave digitale della scuola, dell'università, del lavoro. Dobbiamo concentrare tutte le migliori energie del Paese e le risorse disponibili sul potenziamento della connettività, della formazione digitale, dell'innovazione tecnologica, assicurando a tutti i cittadini la parità di accesso agli strumenti informatici. Per attuare efficacemente queste priorità di intervento in un quadro progettale di medio e lungo periodo il nostro Paese avrà bisogno di un assetto normativo semplificato, lo voglio sottolineare, semplificato e quanto più favorevole possibile agli investimenti e all'utilizzo di risorse pubbliche significative per continuare a sostenere l'economia nella fase di uscita dall'emergenza sanitaria. Quindi in questa prospettiva è cruciale la decisione che è stata assunta dalla Banca Centrale Europea lo scorso 18 marzo, che ha portato a 750 miliardi l'entità complessiva del programma di acquisto di titoli volta a contrastare i rischi economici della pandemia del coronavirus, includendo anche la possibilità di rivisitare gli attuali limiti autoimposti dove fosse necessario. La recessione, una recessione che ci aspettiamo dura, severa, che investirà l'intero continente europeo, assume infatti i caratteri di uno shock esterno e simmetrico. La risposta della politica monetaria e della politica di bilancio dell'Eurozona non può, non deve essere messa a repentaglio da un rischio di frammentazione dei mercati finanziari, soprattutto nell'ambito dei titoli del debito pubblico. È di assoluta importanza, quindi da questo punto di vista, la proposta della Commissione europea volta ad attivare la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Questa clausola sarà essenziale per poter procedere con ulteriori stanziamenti di risorse che si renderanno necessarie a partire dalla definizione del nuovo provvedimento di sostegno in aprile, sul quale, ripeto, auspico la più ampia collaborazione di tutte le forze politiche. Tuttavia l'impatto finanziario e socio-economico della pandemia sarà tale da richiedere alla governanza economica dell'Eurozona un salto di qualità che sia all'altezza della sfida. La nostra Unione Monetaria potrà uscire vincitrice dalla lotta contro il coronavirus soltanto se le sue istituzioni saranno rafforzate nel segno della solidarietà e della unità. In queste settimane di emergenza ho promosso con forza, nei confronti delle istituzioni europee e degli altri Stati membri, un'azione coordinata con gli altri ministri di governo per sollecitare una risposta europea rapida ed efficace, di ordine sanitario ma anche di ordine economico. A un'emergenza così straordinaria dobbiamo reagire con misure coordinate, tempestive, straordinarie, rassicurando i cittadini europei e anche i mercati finanziari. Dobbiamo lanciare un messaggio forte, un messaggio chiaro. L'Europa è unita ed è disponibile a fare tutto ciò che è necessario per preservare le proprie economie e il proprio tessuto sociale. Quindi dobbiamo essere disponibili a pensare anche a iniziative innovative e a ripensare vecchi strumenti stravolgendoli. Risposte corrette ma tardive saranno del tutto inutili. I bilanci dei Paesi membri infatti dovranno continuare a mobilitare risorse pubbliche nel corso del 2020 e soltanto un'azione politica di sinergia potrà permettere all'Eurozona di tornare su un sentiero di crescita sostenuta. E' convinzione del Governo che ad oggi nessuno degli strumenti disponibili, nessuno, progettati durante presenti periodi di crisi di differente natura, pensiamo all'ultima del 2008, possa costituire un veicolo idoneo ad attuare quella coraggiosa risposta economica alla pandemia di cui tutti i cittadini avvertono la necessità. Per questa ragione l'Italia continua a lavorare alla creazione di strumenti di debito comuni dell'Eurozona che possano finanziare gli sforzi messi in campo dai governi e costruire un'adeguata linea di difesa. Si è ragionato anche in questi giorni di Corona Bond, non è una formula linguistica che mi fa impazzire. Propenderei forse, se devo dare un suggerimento, per European Recovery Bond, ma non è un problema di lessico. Nelle ultime ore ho portato avanti un'iniziativa condivisa dai leader di altri otto Stati membri, Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna. Ieri abbiamo inviato una lettera che ho sentito per telefono al Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, con la quale abbiamo espresso un chiaro punto di vista. L'Europa può affrontare questo shock soltanto facendo ricorso a misure straordinarie, a misure eccezionali. Queste misure devono essere prioritariamente dirette a contenere al massimo la diffusione del virus e a rafforzare i sistemi sanitari dei singoli Stati membri. Devono essere in grado di salvare la produzione e la distribuzione di beni e servizi vitali all'interno dell'Unione europea e di contrastare efficacemente gli effetti negativi di questa crisi senza precedenti. Questa è una battaglia che si vince tutti insieme altrimenti a perdere saremo tutti. Ribadirò questa posizione, la ribadirò già tra qualche ora, ci sarà una videoconferenza a livello di G20 e poi nel pomeriggio la ribadirò nel corso del vertice del Consiglio europeo, lo terremo appunto quest'oggi. In conclusione, siamo nel mezzo di una sfida che noi e le generazioni a noi più prossimi anche, i nostri genitori, i nostri nonni, non avremmo mai immaginato di dover affrontare. Pensate un po', chi se lo immaginava. È una prova durissima che proviene e origina da fattori esogeni, per i quali quindi non ci possiamo imputare nulla. Il virus, questo virus, questo nemico è invisibile, non conosce confini, è come il vento, soffia dove vuole. Quel che sta a noi è continuare ad affrontare questa sfida con coraggio, determinazione, responsabilità. A queste qualità dobbiamo aggiungere anche un'altra qualità, l'orgoglio di appartenere a una comunità di individui che vanta una grande tradizione, una tradizione di rara forza, di rara bellezza, una comunità di individui che non vede l'ora di rilanciarsi per riaffermare unita e fiera la fiducia nel proprio futuro, nelle sue più grandi virtù. Grazie.